signori buongiorno e bentornati sul canale del master k e io sono il master k il vostro ospite su questo canale ultimo appuntamento con la serie estiva del modellismo questa settimana parliamo di pittura e vedremo come rimane il modello una volta finito questa probabilmente la parte più divertente o almeno è la parte più divertente per me anche se devo ammettere che non sono un grande pittore comunque non perdiamo altro tempo vi lascio direttamente con l'ultimo video noi ci rivediamo in fondo per questo episodio dobbiamo presentare dei materiali che non abbiamo ancora fatto nella fattispecie i colori acrilici l'effetto ruggine ne abbiamo già parlato un colore metallizzato e un pennello abbastanza largo non vi faccio perdere tempo ulteriormente abbiamo già discusso di tutti questi materiali in più il modello che abbiamo costruito finora è stato primerizzato prima di nero a bomboletta e poi gli è stato dato un effetto pietra con un altro passaggio più leggero di bomboletta grigia ho deciso che i pavimenti sarebbero state in griglia metallica però acciaio su grigio non avrebbe staccato quindi diciamo che useremo un pesante effetto di ruggine per questo modello di conseguenza come prima cosa tutte le parti che poi dovranno essere metallizzate sono state dipinte con un fondo marrone potenzialmente questa è un'altra cosa che potreste fare a bomboletta se applicate delle maschere e non sporcate la parte che deve restare grigia nel caso specifico di questo modello dato che ci sono un sacco di parti rialzate in realtà applicare delle maschere per velocizzare l'effetto di pittura avrebbe richiesto più tempo e più impegno che semplicemente dipingere tutto di nero e poi ripassare a pennello a mano le parti che dovranno poi restare con una base marrone in linea generale quando fate un modello valutate effettivamente cosa vi impiega meno tempo e meno fatica a fare perché a volte controintuitivamente ci sono delle pratiche che si usano per risparmiare tempo che in realtà ci fanno buttare più tempo di quello che effettivamente ci fanno risparmiare in questo caso poi ho applicato due mani una di marrone mischiato con nero come base e poi una più leggera di marrone puro per cominciare a dare la base metallica che avrebbe fatto bene contrasto una volta che sarebbe stata applicata poi sopra l'effetto ruggine per quanto riguarda i mattoni sono poi stati uno per uno dipinti in un tono di marrone più chiaro a seconda della superficie è stato applicato in maniera più piatta o più leggera alcuni mattoni erano praticamente lisci dalla parte in cui risultava poi effettivamente la facciata quindi quelli li ho dipinti con un grigio piatto altri invece avevano una superficie più rubida e lì ho sfruttato la rubidità per dare un effetto di pennello secco i mattoni sono stati dipinti comunque con mano leggera in modo che il nero tra un mattone lato continuasse a risaltare probabilmente adesso che vedete vi sembra che il grigio sia anche fin troppo brillante non preoccupatevi questa e ci sarà poi una lavatura successiva quindi il colore verrà molto smorzato non vi nascondo comunque che questa è un'attività che richiede parecchio tempo ci sono voluti quasi un'ora per dipingere tutti i mattoni però bisogna dire che l'effetto finale merita la pena una volta che la mano di grigio di base si è asciugata ho poi profilato praticamente la cima di tutti i mattoni con un grigio molto più chiaro quasi bianco questo serve a dare un contrasto maggiore un effetto di luce e in realtà serve anche a dare un immagine più verosimile del mattone se voi osservate una parete di mattoni effettivamente vedrete che ci sono delle striature la pietra normalmente non è di un unico colore anche qua probabilmente vi sembra fin troppo brillante fin troppo contrastato ma ci sarà poi una lavatura che smorzerà i colori e unirà tutto come potete vedere l'effetto finale merita e tutte le superfici che sono un po a sbalzo sono state ripassate a questo punto bisogna preparare la lavatura vera e propria ci sono anche prodotti proprio professionali già fatti ma dato che comunque era una singola struttura ho preferito arrangiarmi con tecniche casalinghe mettiamola così e quindi semplicemente mettete dell'acqua in un bicchiere che poi dovete buttare e all'acqua aggiungete un abbondante dose di colla vinilica e poi come colore elegante per smorzare ho aggiunto una punta di acrilico nero mescolate il tutto finché non ottenete fondamentalmente una sostanza semiliquida e poi non dovete far altro che spennellare tutta la superficie della struttura con questa lavatura artigianale in realtà in questo caso la lavatura ha due scopi il primo è quello di smorzare i colori e legare tutto con un colore più sfumato che in questo caso sarà un grigio perché nero più il bianco del vinil da un colore grigio ma la seconda è che una volta che la lavatura si sarà asciugata il vinil in realtà resterà e andrà a formare uno strato sia impermeabile che protettivo sulla struttura per quanto il polistirolo usato da noi che poi quello usato come isolante sia più duro e più resistente del polistirolo quello che trovate nei pacchi di amazon comunque di polistirolo stiamo parlando quindi anche semplicemente urtare accidentalmente la torre mentre si gioca o mentre si sta spostando da un tavolo all'altro potrebbe graffiarlo spaccarlo è meglio aggiungere tutta la protezione che si può in questo caso facendolo con un'unica passata in realtà poi ho dato due mani di protettivo comunque aggiungere questo strato di vinil protettivo comunque avremmo dovuto dare una lavatura al modello non richiede più fatica non c'è motivo per non farlo una volta che tutto il protettivo si è asciugato sono poi passato a dipingere i pavimenti veri e propri in realtà anche se a logica sembrerebbe più normale dipingere prima il metallo e poi la ruggine in realtà no la base marrone è la base su cui verrà attaccato l'effetto ruggine io qua ho usato un effetto ruggine che mi ha avanzato dal progetto in realtà il progetto dell'anno scorso i video sulle barricate rialzate per un modello così piccolo potreste anche limitarvi a aggiungere sabbia e vinavil negli angoli e poi semplicemente dipingere di marrone mischiato con arancione fate attenzione se sbavate pulite dove avete sbavato comunque dicevo non è necessario prendere un effetto ruggine fatto apposta dato però che io ne avevo letteralmente da buttare ho preferito usare direttamente quello l'effetto è relativamente migliore quando applicate l'effetto ruggine non cadete nel tranello di applicarlo a macchia casuali in realtà la ruggine non si viene a creare in posti casuali la ruggine si viene sempre a creare dove il metallo è attaccato a qualcos'altro e lontano dai punti di passaggio perché dove la gente passa semplicemente il via vai l'attrito delle suole lucida il metallo e quindi previene la ruggine nel nostro caso quindi l'effetto ruggine sarà sui bordi delle mattonelle e poi sul pavimento vero e proprio intorno al punto in cui la griglia si attacca sulla struttura superiore tra l'altro in questo modo la ruggine aiuterà anche a sottolineare la divisione tra i vari blocchi che vanno a formare poi le griglie del pavimento superiore mentre le immagini scorrono voglio perdere qualche minuto per un chiarimento effettivamente l'accostamento di un pavimento a griglia metallica che è moderno se non futuristico con una struttura di pietra tagliata grezza può sembrare strano sì lo so la cosa è evoluta io questi elementi scenici li uso principalmente per giocare a warhammer 40.000 che per chi non lo conosce è un wargame che ha un'estetica per quanto fa san scientifica estremamente medievaleggiante e quindi nell'estetica di quel gioco un accostamento del genere cioè elementi industriali moderni accostati a pietra grezza o altri elementi medievali è perfettamente normale magari per un più classico non so chi usa questi elementi scenici per giocarci a dungeon sandragon per esempio sarebbe stato meglio che invece di pavimenti a griglia metallica mettere delle assi di legno come abbiamo visto un paio d'anni fa per il ponte della mappa tattica prendete quello che avete in questo video come spunto non necessariamente se volete provare a fare qualcosa del genere dovete riprovare a farla esattamente identica e soprattutto quando costruite un elemento scenico tenete anche conto di qual è l'estetica di riferimento che volete creare sul vostro tavolo questo elemento magari stonerebbe per giocare ad angelos and dragon anche se in realtà per chi conosce sigilo l'ambientazione planscape strutture del genere nei piani esterni sono perfettamente normali perché anche lì c'è questa estetica del mischiare elementi diversi in maniera casuale comunque prima di andare effettivamente a costruire pensate non solo alla parte ingegneristica della cosa cioè come fare a tenere la struttura in piedi ma anche poi quale deve essere l'aspetto finale che abbia per renderla più bella o comunque più integrata in quello che andrete a usare a farla chiusa questa mini digressione andiamo avanti una volta finito con l'effetto ruggine bisogna passare al metallo vero e proprio in questo caso tranne sulle superfici piatte in cui è stato proprio applicato a pennello pieno il resto tutte le parti dove c'è la griglia ho applicato l'effetto metallico fondamentalmente puntinando con la punta del pennello in questo modo comunque sarebbe rimasto parzialmente visibile il marrone della parte di sotto visto dalla normale distanza visto da mezzo metro cioè l'altezza a cui normalmente si sta quando si gioca l'impressione che si ha è che per quanto quella zona il metallo non sia del tutto arrugginito ci sia comunque una sbavatura di ruggine la ruggine si stia cominciando a formare in più il fatto che tutta la parte di sopra abbia un tono più rossastro rispetto al grigio dei mattoni aiuta a creare uno stacco lo ripeto ogni volta ricordatevi che quando si va a parlare di elementi scenici per quanto voi vogliate dipingere bene non devono mai andare a togliere il protagonismo dalle miniature mettiamola così gli elementi scenici devono rendere l'illusione ma in un gioco in cui si usano le miniature i protagonisti sono le miniature quindi è lì che l'attenzione deve focalizzarsi gli elementi scenici sono appunto la scena in cui le miniature si muovono questo vale sia che li usate per wargame sia che li usate per qualche gioco di ruolo come griglia tattica per una partita idnd o quello che è e questo è l'effetto finale con tutti i mattoni bordati alcuni rimangono più chiari alcuni rimangono più scuri e la griglia metallica arruggenita che permette di raggiungere il rivello rialzato tramite una piccola scalinata a chiocciola non resta che metterlo sul tavolo e sperare che offra protezione ai nostri eroi e con il nostro modello finalmente finito si queste sono le effettive dimensioni non so se dal video visto all'alto si riusciva a capirlo comunque con il nostro elemento scenico finito finisce anche questa edizione del modellismo col master k e non vi preoccupate ovviamente il canale ha finito le ferie ma la cosa non finisce qui anzi dalla prossima settimana comincia la settima stagione del canale del master k e io continuo a meravigliarmi di quanto sia durato su youtube lo so evidentemente sono più bravo di quello che mi aspetto o voi avete dei pessimi gusti più probabile la seconda comunque se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate anche i link al server di discord al gruppo telegram dove metto le notifiche io manualmente e dove si raduna anche la community adesso non lo so magari per l'inizio della prossima stagione vedrò anche di organizzare qualcosa ma al momento in cui sto registrando non posso ancora dirvi niente nel caso comunque se avete domande dubbi perplessità scrivete tutto nei commenti qui sotto io sono il master k e ci vediamo la settimana prossima con la prossima stagione del canale del master k